Ogni parola sarebbe superflua, grazie a tutti, grazie ai ragazzi, ci siamo già ringraziati tante volte. La meritavamo, la meritavamo fortemente, questi ragazzi sono stati eccezionali nel andarsela a prendere. Poi quando le cose le fai nella maniera giusta anche gli episodi vengono da tua parte e quindi siamo molto contenti di aver fatto qualcosa di incredibile perché poi i numeri stanno lì a testimoniare che questi ragazzi sono stati strepitosi e io li ringrazio tutti e vi ringrazio tutti e quindi ci godiamo la festa per ora. E' emozionante tutto, anche loro sono riusciti a mettere una ciliegina con uno spettacolo sugli spalti. La gente, l'ho detto tante volte, ma l'ho detto perché lo penso e lo sento soprattutto. La gente è di grande cuore, ci ha sostenuto tutto l'anno, ci ha sostenuto nei momenti difficili anche appena sono arrivato e è un ambiente bello e quindi siamo contentissimi di avergli regalato e di esserci regalati questa grandissima gioia. Sì, l'ha detto già il direttore, l'ha detto il presidente, abbiamo un rapporto troppo bello e il prima possibile ci ritroviamo, parliamo e capiamo quello che abbiamo fatto e quello che vogliamo fare, che è ancora più importante, perché quello che abbiamo fatto rimane e rimarrà secondo me per tanto tempo e quello che vogliamo fare è altrettanto importante.